Elettronica Service, sistemi di sicurezza, antifurti e videosorveglianza. Viene a trovarci in Corso Mazzini 258 a Cava dei Tirreni nei pressi dello stadio comunale. Il trentesimo torneo internazionale di calcio giovanile Città di Cava dei Tirreni è fatto come ogni anno di qualità tecnica di squadra, di doti agonistiche che fanno parte delle individualità. Ma non è l'unico motivo di interesse della manifestazione. Domani mattina a Cava dei Tirreni, presso il complesso monumentale di San Giovanni, saranno infatti consegnati i premi intitolati a Pietro Santin a due allenatori, Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ed Emilio De Leo, collaboratore di Siniscia Miailovic al Bologna. Un riconoscimento istituito quest'anno dal comitato promotore per onorare la memoria del tecnico istriano, cavese di adozione, scomparso nel dicembre 2017. Un premio che di anno in anno sarà assegnato a uno o più allenatori che nella loro carriera si siano messi particolarmente in evidenza, incarnando al meglio i valori umani e professionali che hanno sempre contraddistinto Santin. Ma non è finita qui. Sempre a San Giovanni si terrà alle ore 11 il convegno intitolato formazione, aggregazione e integrazione. Il calcio come scuola di vita, volto a sottolineare il ruolo fondamentale